Buonasera a tutti, ben ritrovati di nuovo a questo appuntamento con Stoppa e Non Addetti, questa sera di nuovo ospite dopo un po' di tempo, Settimio Luci, giocatore dalla grande carriera e o tuttora responsabile del gesto giovanile del Fiorentuola d'Arda Serici. Grazie Settimio, buonasera a te. Ciao, buonasera, ciao. Allora, ecco, diciamo così che ripercorrere la tua carriera è piuttosto facile, lo dico specialmente per i più giovani, Settimio è cresciuto nella Roma, nella Roma di Ericsson, con grandi fuoriclasse in campo con lui, poi ha avuto una carriera molto importante a Piacenza, Verona, insomma, per citare, nel quale è diventato proprio di Piacenza una bandiera della squadra tutta italiana, e ne ricordo che oggi a raccontarla fa quasi ridere, questa cosa qui, e Settimio giocava libero, io mi perito di dire che anch'io giocavo libero, anche se ovviamente non ai tuoi livelli, quindi non posso chiaramente paragonarmi minimamente a quello che è, però era un ruolo che a me piaceva, divertiva, era un ruolo che era molto creativo, a mio modesto parere. Sì, ciao a tutti, buonasera, hai fatto un riassunto delle puntate precedenti, quella è la mia vita precedente, che è stata una bella avventura, è durata tanto, a cominciare da Settimio giovanile a Roma fino ad arrivare ai 35 anni, perché poi dopo ho smesso abbastanza presto, non avendo più stimoli, avevo perso un po' la voglia di fare allenamento, che è l'unico segreto che conosco del calcio, e quindi ho preferito ritirarmi in bellezza, ho fatto una carriera dignitosa, giocando solo in Serie A e in Serie B, quindi non avevo voglia poi di andare a rovinare un po' tutto, scendendo nelle categorie minori, ma non per sminuire le categorie minori, ma perché se non ci vai con la testa giusta, poi dopo rischi di fare solo delle figuracce, quindi ho preferito così, poi dopo ho iniziato la mia trafila, sono rimasto nel calcio e sono ancora qui. Sì, ecco, diciamo che la tua carriera è stata molto più che dignitosa, la tua carriera è stata un'ottima carriera sia per le tue qualità tecniche che per le tue qualità morali, che purtroppo vengono oggi, diciamo così, inrise, ma sono ben importanti. Ecco, da grande adesso, Settemio, stai facendo questo lavoro fondamentale, tra l'altro in una società che secondo me dovrebbe essere presa ad esempio da tutto il calcio italiano, che è il Fioreforo Adarda in provincia di Piacenza, una società che conosco, conosco l'allenatore che è stato anche ospite qui, conosco il direttore, ho avuto il piacere di conoscere te, mi spieghi un attimo quelle che sono le linee guida del tuo lavoro, cioè tu, quali sono i capisaldi della tua attività? Ma, allora, come hai detto te, partiamo dalla base, io lavoro in una società seria, perché quella è la base per fare calcio, se la cosa non funziona dalla testa diventa tutto più difficile, cioè la società è una società che ha le idee giuste, è arrivata nei professionisti dopo aver fatto 30 anni di direttanti, è arrivata con i propri mezzi senza eccessi, e adesso cerca di confermarsi in questa categoria, cercando anche di sviluppare il lavoro del settore giovanile, quindi io sono stato chiamato, in pratica, all'ultimo anno di D, ho cominciato a costruire, e siamo ancora in fase di costruzione, perché, come sai, te e più di me, il lavoro del settore giovanile è un lavoro lungo, che non dà risultati nell'immediato, e quindi stiamo cercando di costruire qualcosa che possa durare nel tempo, e non deve essere la solita frase fatta, stiamo cercando di poter preparare qualche calciatore per portarlo più avanti possibile a giocare nella nostra prima squadra, quindi questo è l'obiettivo della società, la società mi ha dato carta bianca su questo, non è una società, non ho un direttore sportivo, che tra l'altro tu conosci Bernardi, è un ragazzo serio, non ho un presidente che mi chiama alla fine della partita per sapere il risultato, ma piuttosto per sapere come stanno andando i ragazzi, se è tutto a posto, se stanno crescendo, quindi questa è la base per me per lavorare. Poi dopo il lavoro è molto lungo, siamo già migliorati rispetto all'anno scorso, in qualità di ragazzi, in qualità di istruttori, di persone che lavorano dentro, però poi dopo, come ben sai, il lavoro è lungo, siamo appena all'inizio. Ecco, ti volevo chiedere, Settimio, tu che cosa chiedi ai tuoi allenatori, sia dal punto di vista morale che dal punto di vista tecnico, ovviamente a seconda delle categorie? Allora, io principalmente chiedo, quando iniziamo a scelgo una persona, io principalmente chiedo che voglio un formatore, un allenatore che non pensi a formare se stesso, non pensi solo a fare bella figura lui, è chiaro che ogni allenatore ha la sua volontà di fare bella figura e dimostrare che è bravo, però questo a me, a Fiorenzo, lo deve dimostrare di riflesso, lo deve dimostrare vedendo i suoi ragazzi che crescono, che fanno dei passi in avanti, i ragazzi non sono tutti uguali, e questo gli viene detto dal primo giorno, i ragazzi non sono tutti uguali, chi dice che sono tutti uguali fanno errore, i ragazzi ci sono quelli che sono più bravi, che hanno più qualità, e poi non è detto, va detto anche che non i più bravi è certo che arriveranno, anzi, arrivano quelli che hanno più costanza, che hanno più voglia di sacrificio, che hanno più voglia di mettersi in gioco, ci sono tanti fattori che poi dopo incidono. Io principalmente imposto il lavoro nella formazione, quindi prendiamo dei ragazzi che sono delle pietre grezze, che chiaramente noi, tieni conto che lavoriamo in Emilia e siamo probabilmente l'ultima società in Emilia tra i professionisti, perché siamo circondati da Parma, da Sassuolo, da Bologna, da Spalla, il Modena sta arrivando fortissimo per investimenti nel settore giovanile, c'è la Gremonese appena dopo il ponte, c'è il Piacenza che ha 15 gommi da noi, noi lavoriamo con dei giocatori che hanno delle attitudini e cerchiamo di migliorarli, e migliorarli significa fargli fare un percorso di formazione che parte dal campo e parallelamente fuori dal campo, perché devono capire che il percorso è difficile e soprattutto quello fuori dal campo, il campo più o meno ci stanno tanti giocatori che sanno fare tante cose, è fuori dal campo, che vanno formati soprattutto nella mentalità, quindi io credo che sia una cosa molto semplice, cioè il calcio è una roba semplice e poi dopo lo vogliamo complicare, gli dobbiamo insegnare tutte le cose che servono per poter provare a fare i calciatori in campo a livello individuale, devono saper far tutto, noi gli possiamo far fare 3-4 allenamenti sulla tattica oppure lavorare solo sui calci d'angolo, i calci di punizione, perdere 3 quarti d'ora per lavorare su quello, dobbiamo piuttosto insegnargli come si mette il corpo, come si mettono i piedi, come si usano le mani, l'uno contro uno, due contro due, inferiorità, superiorità, le cose semplici nel calcio che si sono sempre fatte, che prima probabilmente facevamo in strada, erano naturali e adesso bisogna lavorarci ancora di più. Ecco, tu hai citato alcuni punti focali, io tra l'altro ti leggo sempre con piacere, anche quando tu dici le cose, anche perché non hai il dono della chiarezza, però ti dico questo, guarda, io sono istruttore di varie categorie, dove alleno, ho anche i 2014, quindi quelli proprio più piccolini, e ti dico sinceramente che tutte le domeniche, se io avessi un altro carattere, ci sarebbe da litigare, perché ci sono squadre, nessuno fa i cambi, i cambi dovrebbero essere fatti almeno un tempo un bimbo dovrebbe giocare e non avviene, ti attaccano subito, allora io dico una cosa, noi ci lamentiamo sempre di tante cose, però come dico spesso, purtroppo a essere marci dentro probabilmente siamo noi, perché io sono convinto che se mettessero delle partite uno contro uno, troveremmo anche lì la maniera di trovare degli escamotaggi, sinceramente, tante volte mi cadono le braccia, e credo, non riesco a vedere, come si diceva qualcuno, una prospettiva di miglioramento. Sono d'accordo con te, siamo arrivati a un livello, secondo me, il più basso nella storia, a livello di mentalità, per quanto riguarda il settore giovanile, in generale è così, in generale chi non vince non è bravo, ma in generale non solo nel calcio, lo guardiamo anche nella scuola, adesso per poter fare il liceo scientifico sportivo devi avere tutti i nove per fare i test d'ingresso, devi essere bravissimo, quindi è sempre una questione di competizione, di vincere o perdere, questa mentalità e questa cosa secondo me ci possiamo far poco, ha preso troppo piede, noi che lavoriamo ci possiamo far poco, possiamo continuare a parlarne come facciamo io e te o come fa qualcun altro, queste sono mine che sono nel percorso dei settori giovanili che vanno disinnescate, non lo possiamo fare noi, non possono essere eliminate, ci sono, è pieno di mine su tutto il percorso, su tutti i settori giovanili a cominciare da quelli di serie A a quelli di pura tipica di settore giovanile e dei direttanti, è solo la federazione che può fare qualcosa, intervenire, disinnescare più mine possibili e quindi facendo una serie di interventi, mettendo allenatori che non possano allenare i grandi se allenano i settori giovanili, togliendo i risultati, è un assurdo, ti faccio un esempio, i nostri campionati professionistici, hanno istituito le fasi finali dei campionati under 13, giocano a 9, dove si giocano le posizioni in classifica sui gol fatti, sui risultati dei giochi che la federazione impone, che quasi tutti fanno a malincuore perché magari non capiscono, sulla differenza rete, quindi ti trovi dei ragazzini che a 13 anni hanno solo quello nella testa, dover vincere e fare tanti gol in più rispetto a un'altra squadra che compete con loro perché poi dopo ci sono le finali a Coverciano, perché dopo sono bravi se vincono, gli allenatori vengono giudicati per quello, se la federazione fa un comunicato domani mattina e dice non esistono più le classifiche nei campionati giovanili, non esistono, oppure mettiamo le classifiche per altre cose, mettiamo le classifiche ok, ci stanno le squadre che sono più brave, alla fine diamo altre valutazioni e non è solo il risultato numerico, questo lo può fare la federazione, però non vedo persone all'interno che possano fare questo, nessuno si espone, non c'è gente di calcio all'interno della federazione, non c'è gente che ha lavorato, non dico di calcio che ha fatto il professionista che ha fatto il calciatore, gente che ha lavorato anni nel settore giovanile che conosce le dinamiche e le problematiche, qui abbiamo avuto l'anno scorso, due anni fa in tempo di covid, un responsabile che ha detto ok, possiamo iniziare a fargli giocare senza pallone, quindi da lì ti rendi conto il livello in cui siamo caduti, finché non ci sarà qualcuno che ci va a mettere le mani dentro e forse qualcuno più in vista di quello che possiamo essere io e te, perché io tu mi dici io direi che sono d'accordo ma i miei messaggi finiscono lì anzi forse qualcuno che li legge qualcuno che deve decidere magari mi rida anche dietro mi dice ma guarda questo continua a rompere le scatole cosa vuole fondamentalmente è così finché non c'è il maldini della situazione o qualcuno che veramente viene ascoltato che possa dire delle cose interessanti e cambiare le cose secondo me non succederà niente e anche su questo dubbi perché Baggio era stato messo a Coverciano per il settore tecnico è stato lì tenuto sei mesi gli hanno fatto fare una relazione poi gli hanno detto che non era non era all'altezza e vedi adesso che chi c'è in federazione e chi detta le regole secondo me è un'assurdità però funziona così ma la domanda però comunque è questa io sono d'accordo con la tua disamina però poi dopo che cosa succede? succede che i risultati sono i risultati nel senso di formazione sono sotto gli occhi di tutti però facciamo l'esempio dei centri federali centri federali sono stati un fallimento totale centri federali all'estero sono organizzati ben diversamente e la federazione investe molte risorse in questi centri federali cioè questo è un esempio poi alla fine poi vediamo d'accordo è vero non cambia niente la gente non ha interesse a cambiare magari deride chi parla però poi la situazione sta sempre precipitando di più assolutamente sì la situazione è sotto gli occhi di tutti se non partecipiamo a due mondiali di fila la situazione è preoccupante forse dovrebbe essere un campanello d'allarme però se tu ci fai caso succede una levata di popolare nei due mesi successivi poi passa tutto nel dimenticatoio dall'alto dicono sì adesso facciamo le riforme ci pensiamo c'è il tavolo permanente e poi dopo alla fine non succede niente continuano a dire no perché sono gli stranieri no perché in Italia non ci sono talenti ma non è così io ti posso assicurare guarda parlo con persone che fanno scouting per società di serie A ex giocatori che conosco che girano che girano tutta Italia e ogni tanto li senti e gli dico c'è qualche giocatore in Italia no in Italia non ci sono giocatori anche una questione di mentalità per cercare i giocatori stiamo andando in Finlandia in Danimarca perché probabilmente hanno una formazione diversa hanno lavorano su basi diverse andiamo a vedere cosa fanno andiamo a capire qualcosa mettiamoci in discussione invece no è semplice dire non ci sono talenti ma non è così non è così i talenti ce ne sono più di prima perché solo per spirito di emulazione e vedere la televisione e vedere messi in televisione o Neymar i ragazzi cercano di imitare e qualcuno magari ci riesce e ci sono io li vedo li vedo a 12-13 anni vedo un sacco di ragazzini che hanno un talento fuori dal normale dopodiché succede qualcosa per cui si perdono e io lo so perché si perdono perché poi dopo cominciano ad andare in società in cui è importante solo il risultato cominciano a lavorare a livello tattico abbiamo dei ragazzini che a 14 anni ne sanno più di me che ho fatto il professionista 30 anni cioè ne sanno più ne sanno tatticamente sanno tutto poi dopo però arriva un cross e non sanno marcare non sanno fare l'uno contro uno non sanno fare non sanno fare le basi che servono per poter fare un calciatore professionista con la forza fisica con la forza fisica con l'intento tutto poi però ci sono i talenti pieni di talenti in Italia e che noi non li sappiamo allenare dai 13 anni 14 anni in su fino ad arrivare ai 18 anni succede c'è un buco nero perché finiscono in mano allenatori che non sanno formare anzi probabilmente lo saprebbero anche fare non gli interessa formare gli interessa fare risultati gli allenatori andare a guadagnare di più perché nel settore giovanile si guadagna poco perché hanno la pressione dei responsabili che gli dice dobbiamo vincere dobbiamo arrivare primi tutta una serie di cose che solo la federazione può disinnescare ok non facciamo dei campionati ok che può fare le finali anche chi arriva al quarto ultimo posto che però ha fatto dei miglioramenti che ha lavorato in un certo modo mettiamo delle regole ben precise perché uno che lavora bene nel settore giovanile e lavora per formare magari alla fine del campionato è penultimo è terzultimo è quarto ultimo in classifica perché ha lavorato per far crescere i giocatori poi dopo chi lavora bene se ci fai caso secondo la tua esperienza secondo la mia è così io vedo che chi lavora bene dopo nella seconda parte dell'anno vedete i giocatori che crescono che sono formati e poi dopo arrivano pure i risultati cioè non è che io sono un bigotto e dico che i risultati non contano certo che poi dopo serve anche quello però c'è una strada è un percorso per raggiungere i risultati che non può essere solo solo la farli lavorare tatticamente lavorare sugli schemi lavorare su cose così significa formarli dagli una mentalità giusta farli crescere e dopo arrivano anche i risultati e sono giocatori forti se tu gli dai solo l'input del risultato è finita l'uomo dentro di sé ha la voglia di competere è dentro è dentro di sé la voglia di competere di primeggiare di arrivare primo cioè non è che facendo così gliela metti in più ai ragazzini anzi secondo me così gli fai passare la voglia di giocare a calcio certo ecco tra l'altro guarda io ti dico io sono 12 anni che giro per la C e per la D e ti potrei fare una lista lunghissima di giocatori che ho segnalato e che adesso giocano in serie A o in serie B quindi i talenti ce ne sono anzi ti dirò di più io vedo i giocatori che vengono da primavere che hanno difetti molto più gravi dei giocatori diciamo magari cresciuti perché vedo difensori che non sanno marcare che guardano solo la palla che fanno le corse sbagliate che nel uno contro uno non hanno un'idea sparata di quello che devono fare però torniamo sempre su quel discorso lì all'estero quando hanno avuto delle difficoltà si sono messi in discussione e hanno detto ok così non va bene dobbiamo cambiare qui in Italia questo non avviene mai allora ripeto che poi tutti dicono non andiamo al mondiale da otto anni beh se ci andremo nel 2026 saranno 12 gli anni in cui non andiamo ai mondiali ecco perché la matematica non è un'opinione ma il concetto è io sposo pienamente la tesi che tu dicevi precedentemente purtroppo è la nostra società che è così dove se non vinci l'esempio che tu hai fatto del liceo scientifico sportivo è emblematico cioè se non hai i buoni voti tu non ci puoi andare lì però magari sei un ragazzo molto valido anche se invece di avere nove c'hai sei ecco a me questo dover sempre primeggiare essere sempre il primo la trovo veramente una cosa socialmente anche inaccettabile perché poi esclude dalla vita persone che magari hanno talenti diversi ecco diciamo così sicuramente sicuramente così poi in Italia noi siamo siamo specializzati a a diciamo ingarbugliare le cose perché abbiamo tanti problemi nella formazione poi dopo intervengono altri fattori che sono economici quindi il fatto che ci siano gli stranieri è perché probabilmente adesso sono più pronti degli italiani non hanno dai 13 14 anni il progolatore dietro i genitori dietro e tutta la cerchia che 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 li li porta su una strada sbagliata e poi dopo lo vediamo adesso in questi ultimi giorni c'è un un problema di gestione di queste società economico dove dove non 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 si vede adesso in questo momento che non è più proprio chiara la gestione economica delle società da cominciare dalle grandi alle piccole ci sono interessi economici che passano sopra le teste di tutti e ci noi ci indaffariamo e diventiamo matti per far quadrare magari dei bilanci di società minori anche i direttanti fanno fatica e poi dopo vedi che che girano delle commissioni per agenti per giocatori che che non che magari non giocano neanche ci sono dei nomi sconosciuti che hanno girato a 10-15 milioni di euro adesso giocano nei direttanti quindi poi dopo in Italia abbiamo trovato come sempre un modo per complicare le cose e tutto questo mix di cose è diventata una bomba io ripeto da da quando è uscito il discorso della Superlega che poi dopo è stata bocciata secondo me era un'opportunità da prendere la Superlega è inevitabile per queste per queste società europee e che le altre società devono rendersi conto che non possono stare dietro al passo con con società che che hanno questi fatturati questi 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 giri di soldi incredibili e devono tornare a fare calcio sul territorio provinciale quasi provinciale non è quando uno ti dice sei un provinciale ma non è una brutta parola cioè voglio dire a Piacenza dobbiamo tornare a fare calcio provinciale quindi la società è Lega Pro lavoriamo sul settore giovanile cerchiamo di portare i ragazzi dare un senso d'appartenenza ma non solo ragazzi di Piacenza perché chiaramente non è che puoi lavorare solo su su una base minima però i ragazzi che tu formi nel tuo settore giovanile che poi possono venire anche da da 100 km di distanza e lavoriamo su questo senso d'appartenenza su valori giusti e cerchiamo di riattirare la gente a vedere le partite dentro gli stati questo è quello che non succede più nelle categorie minori il calcio in alto è diventato effimero è una una Lega a parte queste società faranno faranno da sole è inevitabile che si vada lì chi chi ha cercato di di stagli dietro salta per aria e ne salteranno per aria parecchie ecco ascolta se ti mancano sei minuti al termine senza recupero io ti volevo chiedere anche un'altra cosa vedo sempre di più società professionistiche che vanno alla ricerca di bambini di 7-8 anni allora io ti dico nella mia ignoranza io sinceramente a 7-8 anni ti posso dire se un bambino ha la passione per il calcio ma voglio chiederti ma è possibile in un bambino così piccolo poter scommettere su un suo futuro nel calcio o secondo te è tutto come li chiamo io i carri bestiame ne prendiamo 30 e poi speriamo che ne venga fuori uno ma è morale tutto questo allora questo qui non è non è non è non è giusto io questa cosa l'ho denunciata mi sono fatto tanti nemici anche di persone che conoscevo bene non trovo giusto che un bambino a 7-8-9 anni possa andare 4 volte a settimana se non 5 perché poi dopo fanno le partite sabato poi dopo c'è la domenica c'è il test match più gli allenamenti su un pulmino facendo 2 ore e mezza di strada un'ora e passa per andare e un'ora e passa per tornare un bambino di 7-8 anni quando arriva a 14 anni è già stufo e poi dopo sicuramente quel bambino lì di 8-9 anni la società che lavora in questo modo l'ha già sostituito con un altro che è leggermente più alto leggermente più bravo di questo qui cioè non ha nessun interesse per portarla avanti e fargli fare un percorso corretto lungo questa cosa qui il problema di questa cosa qui va ricercata secondo me anche io mi metto dalle parti della società io so che se è una società di professionisti e io ti dico la mia che è la più piccola va a prendere un ragazzino di 14 anni allora per me eticamente non è giusto andarla a prendere 8-9 anni è giusto andarla a prendere a 13-14 anni arriva il momento che tu devi andare devi uscire se sei bravo a 12 anni io ti dico da professionista a un'ediettante ti dico tienilo te ma non lo fa giocare in quella squadra fallo giocare sotto età un anno due anni piuttosto sotto età sia più bravo perché se stai in quel gruppo si livella gli altri e quindi non migliora più è giusto che stia da te non ti faccio fare un'ora di strada per venire a Fiorenzola ma neanche un quarto d'ora di strada o 20 minuti sì poi dopo ci sono vari casi però poi dopo se io tengo un ragazzino che ho visto a 13-14 anni e lo vado a chiedere a una direttante io professionista devo pagare 5 anni di premio preparazione a una direttante quindi è una cosa da metterci mano anche a quella lì allora le società un po' perché si difendono in questo modo da queste richieste di non tutte le società direttanti però ci sono tante società direttanti che se tu gli vai a chiedere un bambino di 14 anni un ragazzino di 14 anni ti dicono ok quasi gli fai un dispetto e poi dopo ti dicono ok pagami il premio preparazione che per una società di serie A prendere un ragazzino di 14 anni 5 anni sono 15.000 euro cioè tu non puoi pensare anche se tu sei in serie A ma a maggior ragione in serie C di pagare 12-13-14 mila euro per un ragazzino di 14 anni che magari un anno dopo smette di giocare perché perché si è stufato perché trova la fidanzata perché vuol cambiare sport quindi c'è da mettere mano anche a questa cosa qua quindi i ragazzini più bravi per chi lavora bene sono convogliati in società elite che devono avere il titolo di società elite non perché lo raggiungono sul campo ma perché hanno gli istruttori qualificati ma perché hanno gli impianti giusti e federazione tu federazione li devi pagare te queste società elite gli devi dire ok io ti do un contributo di 20 mila euro l'anno 15-20-30 soldi che devi risparmiare non facendo più i centri federali che come hai detto te fanno ridere ok è brutto dirlo però non servono a niente con tutto il rispetto della gente che ci lavora dentro non servono a niente quei soldi lì utilizzali per darli alle società elite però dopo se arriva una società professionista a 13-14 anni devi poter dare il modo di prenderli questi ragazzi e non spendere delle fortune ok ci mettiamo d'accordo se questo ragazzino arriva in primavera arriva in prima squadra io te ne do pure 50 che divento un giocatore io ti do tutto quello che è giusto perché l'hai formato te per 3-4 anni ma non posso arrivare a 13-14 anni e dover pagare quelle cifre quindi è un cane che si morde la cuota fa parte sempre di quel discorso che la federazione questa è un'altra mina che la federazione deve disinnescare ma ne parlano in federazione di queste cose lo sanno come funziona? non lo sanno come funziona adesso c'è la riforma dei vincoli nei direttanti tolgono improvvisamente il vincolo lo sanno cosa significa? non lo sanno invece di pagare 3-400 euro di quota le società di direttanti faranno pagare 800 euro perché per i costi non ci stanno dentro non è giusto neanche il vincolo secondo me non è giusto neanche il vincolo perché non è giusto tenere vincolato un ragazzo e girarlo e giostrarlo come dici te e tenerlo prigioniero per 5-6 anni non è giusto però devi avere dei contrappesi quando fai delle riforme quindi sono tutte le cose legate una all'altra dai direttanti ai professionisti legati che ci si fa bisogna metterci mano in maniera seria ecco la preoccupazione è che non vedo persone che possano metterci mano in maniera seria che non hanno la competenza né la passione perché è la passione che muove il mondo del settore giovanile non c'è né competenza né passione bene Settemio quando quando parlo con te il tempo vola quindi chissà come mai io guarda concludo questa trasmissione facendoti solamente un invito sei almeno per persone come me sei la luce nella nebbia perché quando sento parlare della gente come te dico qualcuno che come si dice in Romagna ha un verso cioè ha un indirizzo c'è ecco io ti ringrazio la partecipazione ti auguro il meglio per la tua attività calcistica e non dico alla gente andate a Fiorezzuola andate a vedere come lavorano queste persone perché se lo meritano ti ringrazio tanto di quello che hai detto saluto i telespettatori ti chiedo di salutarli anche tu dando gli appuntamento alla prossima settimana grazie a tutti vi aspetto a Fiorezzuola chiamatemi il mio numero lo trovate dappertutto se volete venire a parlare con me a collaborare con me nel senso che ho bisogno di confronto il confronto aiuta io non posso insegnare niente a nessuno posso confrontarmi con tutti perché si cresce tutti grazie ancora settimio e una buona serata a tutti ciao ciao ciao